Coach Zambelli, le impressioni della partita prima di Pesaro? Una partita difficilissima, una squadra da battaglia Pesaro che ha dei quintetti piccoli e molto dinamici. Dovremmo essere bravi a tenere gli accoppiamenti e permettere a noi stessi di tenere in campo i lunghi che penso siano la chiave per noi. I rimbalzi offensivi e palla dentro. Prima ancora nella tattica ci sarà un discorso di spirito. La squadra in questi giorni ha dimostrato di essere al top, è molto concentrata. Se si ripeterà sono fiducioso sull'esito buono della gara. Chi vi fa più paura? No, nessuno ci fa più paura. Il collettivo, il fatto che non abbia mollato mai in tutte le gare di qualificazione e non dipenda dai singoli, questa è proprio la loro forza. Grazie.